Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano per traffico intenso code a tratti tra Valdichiana e Incisa Reggello e tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località al Biano Magra, nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, fino a venerdì tratto chiuso per lavori tra Rufina e l'incrocio con la statale 69 di Valdarno a Pontassieve in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!